Bella ragazzi, vi è già stanker? Siamo qui oggi ritornati con il video speciale per Natale Siamo qui oggi sul mio canale perché volevo portarvi un video un po' speciale Un video che vi mostra tutte le categorie dei giocatori di Call of Duty Che può essere Ghost, Black Ops, alla fine sono tutti uguali Il Camper c'è sempre, il Rush c'è sempre e la merda sono io, c'è sempre Va bene, allora iniziamo con il primo, la prima tipo di persona che essendo in tempo natalizio Non potevo iniziare con la persona che odia la neve e odia Natale Dunque, andiamo con la prima clip Abbiamo perso il comando Ti odio, Natale del cazzo Pupazzo di neve di merda, motticaio più sopra E eccoci tornati dopo la prima clip Per la seconda clip Avrò una persona un po' più diversa da quello che odia Natale ovviamente Ora sarà tutto diverso da quello Avremo la persona che si crede il tattico Il tattico, cioè quello che vuole comandare la squadra Il comandante tattico un po' Quello che parla ma nessuno lo sente Lui si prende bene a giocare a Call of Duty Dunque, andiamo con la seconda clip Ok ragazzi, allora Allora, allora, allora Escevco vai da bar e uccide tutti Con i lyrics delico Lyrics crank e lyrics standard Venite con me, scendiamo da sotto Capito? Ragazzi Ehi ragazzi Oh cazzo, mi sa che mi hanno mutato E signori, per dopo finita la seconda clip Il tattico Abbiamo una persona più odiata di sempre Più odiata di tutti i cod Anche dei cod, quelli che giocavano Non striantenati, i cod dei romani Quelli con le armi di legno Abbiamo lui Il camper di merda La lucerta l'ha buttata Sul sasso che prende il sole Colui che vuole imitare una formica Che sta dormendo per terra In mezzo alle foglie Lui Eccolo qui Il camper Ci vediamo la terza clip Prima o poi dovrà passare qualcuno di qua E quel qualcuno Passerà tra le mie grinfie Eh, non potranno mai darmi del camper Se sono qua Io non sono un camper Non possono chiamarmi camper Dov'è? Dov'è una persona? Perché nessuno passa qui sotto? Che sono qui a aspettarmi Però non sono un camper Oddio Ma che camper di merda che sei Spostati da lì Vorrà qualcuno salire qui sopra Mmm T'ho ucciso Ma ragazzi Ma io Non riesco a sopportare qua Qua mettiamo Perché se qualcuno sale Mi becca subito Dopo mi danno del camper Perché non sono Oddio Un satcom Sto diventando troppo forte Il mio rato si sta alzando troppo Guardate quanto sono forte Oddio C'è una C'è una cam Oh cazzo Oddio Siamo in due Siamo qua in venti Che camperiamo Sono troppo fiero di me stesso Sto andando in positivo Ora mando un messaggio Al mio migliore amico E gli dico che sto andando in positivo E che non sto camperando Ma sto lasciando Sto lasciando Se qualcuno lo so darmi del camper Io lo denuncio L'importante che sia alleato Buono Lo sapevo che camperando Poteva dare in positivo Ora mando subito un messaggio Al mio amichetto Per la quarta clip Signori Abbiamo Un canale Youtube italiano Citato nel titolo Ecco io non vorrei fare pubblicità Anche perché loro hanno molti più iscritti di me E non vorrei Incappare in qualche problema Dicendo il loro nome Però io lo dico lo stesso Abbiamo il Falso Inside God Falso perché è falso Perché Lui Riesce a malapena A tirarsi un Satcom Poverino Mentre loro riescono a tirare Le chem Astronomiche Ci vediamo la clip Ora ve lo faccio vedere io Più forte degli Inside God Guardate Si Ho tirato un Satcom Ora posso diventare Un Inside God Si Ok signori E la quinta clip E la clip L'opposta Del camper Cioè Il rusher Il rusher E' colui che Gira con la mitraglietta Per tutta la mappa E corre più Di Usain Bolt Quando alla VR Deve andare al cesso Ahimè così Brucia L'asfalto Mad Max No vabbè Brucia l'asfalto Come Usain Bolt Ci vediamo la quinta clip Su ragazzi In questa partita Voglio Minimum una chem Da tutti voi Dai signori Partiamo No perché smetti di correre E anche maratona Non sfermarti Ricordati Siamo rusher Non possiamo fermarci Prendiamolo nei badger Che pesa di meno Magari riusciamo a correre di più Dai dai Corri 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 Non fermarti mai Corri Forrest Corri Forrest Si E' cam Signori E' cam Corri Forrest Corri 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 Non fermarti mai Se ci fermiamo Il secondo Ci prendono per camper Corri Corri Mai fermarsi Ricorda Come sesta E ultima clip Abbiamo Il Il Faze Ovviamente Voi tutti Conocerete Il Faze Clan E cosa fanno Le Proprio Le cose da pro Che fanno E Questo è appunto Il Ma Proprio Faze Dunque Mi lascio All'ultima clip E dopo La clip Arriveremo I saluti No Il Quicks Coppio Proprio Della mia vita Rovinato Così Con Hit Marker Sì Il Quicks Più 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 Proprio Della mia vita Ora Questo Lo Manderà Subito Ai Faze Mi Accetteranno Di Sicuro Nel Loro Clan Sono Molto Felice Di Quello Che Ho Fatto Sì Comunque Signori Se Il Video Oddio La Luce È Stort Signori Se Il Video Vi Vi Piaci To Lasciate Un Bell Pollicione Qua Sotto Un Bell Commento E Se Non Però Vi Prego Signori Fatelo Perché Così A me Cresciamo Di Numero Da 136 Arriviamo A 136 Mila Sì Magari In Un Giorno A Natale Arriviamo In 136 Mila Dunque Signori Se Vi 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 Da Giastank De Tutto Ci Vi 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 Grazie.